Sì, sono di YouTube. Mi manda YouTube. Allora, questo è un Tebrek A10 contro Cristian Famà, due anni che non gioca a tennis. Chi vincerà? Ionex 100T. No, dai. Secca il nastro, non è così. Due a zero. Quattro a zero. Ah, troppi errori, troppi errori, dai. Quattro a zero. Grazie. 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 Io voglio fare il serve in volley, però serve in volley lo devi fare bene. Mamma mia. Mamma mia. Grazie. 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 A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non ci credo. Ok ragazzi, abbiamo finito il tie break 1 pari. Avete già visto il video precedente dove abbiamo fatto la recensione di queste due terrai, se non l'avete visto correte a vederlo. Se volete acquistarle sono da Matchpoint, disponibili anche in test. Giusto, quindi Matchpoint a quarto, Cristian Famai, lui è l'uomo dietro Matchpoint. Grazie Cristian, grazie a te, grazie Michi, piacere mio. Al prossimo video ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.